In Gran Guardia oggi c'è di fatto un'anteprima di un appuntamento che caratterizzerà il prossimo fine settimana. Il tema è legato a una delle eccellenze di questa terra e che è eccellenza. Lucio Fasoli ha un graditissimo ospite in sua compagnia e perché ci parlerà di questa amarone opera prima. Io vedo dal ritorno video, voi ancora non lo potete vedere. Sono già pronti. E' in una sala particolarmente ben allestita e pronta ad accogliere tante persone che in questi giorni si accingeranno a tante degustazioni di questo pregiato nettare che produce la zona della Valpolicella. Poesia, poesia. Poesia, sì. Del resto io in questi giorni che sono qua nel Veronese durante la settimana ho la mia dimora proprio in mezzo alle vigne ed è bellissimo. Lucio sei in collegamento, mi puoi sentire? Io ti vedo. Sì, Giacomo, buongiorno. E ti invidio. Per la presentazione di Ammarone opera prima. A te la parola. Esattamente, siamo qua, allora vi pensiamo, fin tanto che stiamo aspettando tutti i giornalisti che arriveranno per questa prima masterclass di questa mattina. Ci racconterà adesso quello che si sta svolgendo tra pochi istanti, che si svolgerà ai nostri spalle e soprattutto questo fine settimana Cristian Marchesini, che è il presidente del consorzio di Nivelpolicella, ben trovato. Allora, un evento importante intanto che quest'anno arriva la ventesima edizione, questo convegno sull'Amarone, Ammarone opera prima. Assolutamente sì, quest'anno è la ventesima edizione, la terza con il nuovo format Ammarone opera prima. Quindi leghiamo le due eccellenze veronesi, la lirica e l'Amarone. In questo momento stiamo aspettando di iniziare una masterclass dedicata agli Ammaroni delle vecchie annate per spiegare ai giornalisti quanto ha la capacità l'Amarone di invecchiare e migliorare nel tempo e di acquisire valore. È un brand, diciamo, ancora molto importante, naturalmente sta facendo conoscere la Valpolicella nel mondo. Assolutamente sì, l'Amarone è il vino probabilmente italiano più conosciuto al mondo e noi ci impegniamo per promuoverlo. I nostri mercati fondamentali sono quelli del Nord Europa e del Nord America, però ci stiamo impegnando molto in Asia e in particolar modo Cina e Hong Kong. Diciamo che domani c'è una conferenza importante sulla quale volete ragionare per il presente e il futuro del vino della Valpolicella dal punto di vista climatico, dei cambiamenti anche del settore. Ecco, come affrontate questo e quanto è importante rivalutare tante situazioni perché il mondo cambia? Sì, il mondo cambia e cambia velocemente, quindi noi dobbiamo avere la capacità come consorzio di indicare la strada ai nostri produttori. Quindi domani parleremo di cambiamento climatico, parleremo di cambiamento di stile da parte del consumatore e parleremo anche di cambio di stile dello stesso Amarone perché l'Amarone è un vino contemporaneo, è un vino che si è evoluto negli ultimi 60 anni e continua a evolversi perché appunto come si diceva all'inizio il mondo è veloce e dobbiamo esserlo anche noi. Abbiamo anche la fortuna di avere come Master of Wine Andrea Lonardi, un uomo di territorio della Valpolicella, vicepresidente del consorzio che ci racconterà come il mondo evolve. Il trend del cambiamento, diceva poco fa proprio quello della diminuzione della gradazione alcolica, ci può spiegare tutto questo davanti alle sfide dell'inanziamento del clima? Sì, è una doppia sfida per la Valpolicella e in particolar modo per l'Amarone perché da una parte il consumatore cerca vini più leggeri dal punto di vista alcolico, meno muscolosi, dall'altra parte il cambiamento climatico ci porta delle uve ancora più mature, ancora con una gradazione alcolica più elevata e quindi il produttore della Valpolicella insieme al consorzio dovrà prendere in mano la sfida di riuscire a superare e a mitigare l'azione del cambiamento climatico. Il consorzio si impegna nel spiegare agli agricoltori che probabilmente bisogna ritornare alla pergola che è la forma storica di allevamento della Valpolicella che protegge i grappoli e gestire in modo corretto i fruttai nel senso che cercare di abbassare la temperatura in un modo anche molto semplice e molto naturale, tenerlo chiuso di giorno e aprirlo di notte dove entra l'aria più fredda e più umida. Un altro argomento è quello dell'utilizzo del vino, una volta era presente sulle nostre tavole spesso e volentieri, oggi diciamo si tende a forse considerarlo un po' meno in certi casi quando invece un buon vino insomma fa bene anche? Beh il vino rosso fa bene proprio per l'antonomasia, una volta fino a pochi anni fa era una presenza stabile sulle tavole degli italiani ma anche di altri paesi, ora si sta concentrando magari nel fine settimana e questo dovremmo invece spiegare ai giovani soprattutto che è una oltre a bere il vino è una cultura, è una tradizione, è un racconto di quanto lavoro sono stato fatto da questi popoli, da questi uomini, in particolar modo quelli della Valpolicella, lavoro millenario di uomini e donne che hanno tramandato la tecnica e la tradizione della messa a riposo per la produzione dell'amarone e del recciotto ovviamente. Ecco in chiusura l'argomento esatto lavoro e per quanto riguarda l'occupazione c'è un po' di fatica nel trovare operatori come siete da questo punto di vista? Sì è una fatica generale da parte di tutti gli imprenditori nei vari settori però in particolar modo in campagna si fa fatica a trovare dei trattoristi ma anche dai vendemmiatori durante il periodo della raccolta e soprattutto in Valpolicella perché si deve raccogliere a mano per produrre ammarone e al recciotto quindi ci vuole anche qualcuno specializzato che riesca a selezionare i grappoli migliori. Quindi ecco l'importanza di stare legati alle nostre terre che ci hanno dato tanto e ci danno ancora tanto. Grazie tante, allora buona fine settimana con questa Marone Open Opera prima e ricordo il convegno di domani clima, produzione e mercati di Valpolicella con la sfida del cambiamento. Grazie tante. Grazie a voi e viva la Valpolicella e viva la Marone. Bene, già come Francesca la linea torna a voi.